Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Pokémon Card Inside Ecco, siamo qui nell'opening che vi dicevo e vi ho portato l'Elite Trainer Box di antiche origini che adesso apriremo insieme Questo è il solito contenuto, il portadeck, il manuale con l'elenco delle carte delle energie, segnalini, i dadi, i divisori e le pellicole più 8 pacchetti Io direi che iniziamo subito ad aprirlo Questi giorni mi si era rotto il cellulare e quindi come avete visto ho pubblicato solo il Play per non lasciarvi senza video perché comunque giro ancora con il cellulare Apriamo l'Elite Trainer Box Qua troviamo subito la Guga con l'elenco di tutte le carte come potete vedere Opa, Libero X Ragazzi, sotto l'elenco Qua ci sono anche dei poster C'è il gatto, ciao, Tai Si chiama Tai E queste sono le carte a cui punto Groudon e Chiogre Primordiale Shiny Mega Requaza Shiny Sono le carte a cui punto speriamo di trovarle Ecco, perchè, insomma, sono anche di assenza fighe Allora, apriamo l'Elite Trainer Box Vediamo tutte le cose, queste sono le energie Come vi dicevo e plastiche Questi sono i divisori Molto belli, veramente molto belli Ecco qua i pacchetti 2, 4, 6, 8 Che Presto apriremo Dai E poi i segnalini Scottatura E avventamento Questo è il porta mazzo Il porta carta Il porta deck che vi dicevo Molto bello Guardate anche il sopra Dunque Velocemente Vi ho fatto vedere il contenuto Perché tanto Se mi seguite da un po' Sapete Come è fatto un Trainer Box O anche se l'avete già comprato Dunque adesso Apriamo i pacchetti Partiamo da Opa Libero E dall'altro che Non faccio il video Le carte Ok Questo qua è il codice Che è per voi Se mettesse a fuoco Ok Dunque Iniziamo La prima carta È un Porygon Relican Persia Ivi Cotteni Vismicot La carta Trainer Chiria Chiria Geridos E Odish Mio dio no Odish Herverse No Ragazzi Odio tantissimo Odish Non potete capire Che è il codice Parecchio C'è il codice C'è il codice Ok Spero di trovare qualcosino Veramente perchè C'è il codice Mio Ivi Un altro Porygon Baltoi Neymar Energia Porygon 2 Chiria Volcarona Full Art E Una trainer Reverse Adesso Passiamo Con il pocket Di Groudon È tornato Mio Non so se l'avete notato Speriamoci Possiamo Parare Una Ok Reversi il codice E Iniziamo Spinara Un altro Porygon Anon Bellum Gumi Metang Una carta trainer Irel Oh mio dio Lugia EX È veramente Bellissimo Veramente Veramente Bellissimo Guardate che bellezza È Fantastico Io Lugia è un pokemon che veramente amo Infatti Anche se Sono impattito di pokemon tipo fuoco Ho sempre scelto Argento Un gioco Perché Lugia è veramente bello Lo mettiamo qua Per ora Passiamo con me Passiamo con Megarequasa Lugia 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 Un trucco È un primo Un Il 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 Bombi, Relicant, un'altra carta trainer, un'altra carta trainer, full art, bello, veramente bello, e un Flareon Reverse che è molto carino, mi piace. Fatemi sapere cosa ne pensate di Lugia nei commenti, se è meglio Lugia o ovviamente dal punto di vista di bellezza, non iniziate a fare i commenti, il suo Lugia è più forte o spacca il culo, o roba, ok, adesso passiamo dal tuo calibro, sperando che in me ci possa portare un po' di fortuna, questo è il codice. Ok, la Rebresta, Malamar, Bombi, Quagsire, Neo, Redo Trainer, Sleeve, un Vaporeon, che carino, no, bellissimo, Antei, Holo, full art, che bella carta, e un Eevee Reverse, veramente molto bello, lo metto qua, perché mi piace moltissimo, mega da Iranita, codice, e partiamo, a noi, Baltoi, full art, Cotton, Foxire, Gold, Aredos, Trainer, Fire, oh no, che bello, Guardavor, 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 Guardavor holo, che bella carta, infatti è veramente molto, bello, e una Trainer, Reverse, mi piace tantissimo, è veramente bello. E adesso ragazzi ci mancano due pacchetti, quello di Grodon e quello di Requaza, apriamo prima il Quaza, Grodon lo voglio tenere per ultimo, il codice per voi, ok, Perxian, Baltoi, Wooper, Gomi, Veldum, Energia, Oscurità, Rotom, Carta Trainer, un Registil e un Meo Reverse. Ecco qua l'ultimo pacchetto, speriamo, ragazzi questo è l'ultimo pacchetto, codice, Lascio giù le carte, Baltoi, Wooper, Graz, Magica, Goled, Trene, Belloson e un altro trainer, ecco, queste sono le due carte, chissà se c'è un Ajax, qua abbiamo la Reverse, che è una Brata Trainer, e di qua chissà cosa si nasconderà, un Registil, rara, normale. Bene, ragazzi, non c'è andata malissimo, abbiamo trovato l'Ughiai Ex, anche se onestamente avrei preferito trovare le fuori serie, e questo Entei mi piace veramente tanto, andiamo, scordiamoci di Gardevoir. Dunque ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, che male non fa, commentate, se per voi è meglio l'Ughia o fatemi sapere, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e non vi volete perdere nei prossimi video. Per quest'oggi è tutto, noi ci vediamo con il prossimo, non so cosa potrebbe essere, boh, ci penserò. Ciao a tutti ragazzi!